Quello del nodo di Montecchio è un nodo che risale a decenni fa, 40-50 anni fa. Bisognava naturalmente ragionarlo in maniera diversa. Oggi ci troviamo nelle condizioni di dover affrontare un nodo, soprattutto per i comuni del territorio, che sta creando già dei problemi di traffico, quindi figurarsi con i cantieri cosa può diventare. Dobbiamo dare supporto ai comuni del territorio, lo facciamo anche attraverso alcuni sindaci che sono già consiglieri provinciali e quindi rappresenteranno il tavolo già oggi la provincia, portando anche qualche proposta di soluzione. Non sarà semplice perché tecnicamente è veramente una questione complessa.